In questo video cercheremo di costruire una scala a chioccio da Contra di Studio Max sfruttando le primitive standard e i comandi che abbiamo conosciuto nelle lezioni scorse, ossia Array e Alinea. Mettiamoci subito sul box delle primitive standard e utilizziamo il comando Cilindro per realizzare il primo cilindretto del palo centrale alto tanto quanto l'alzata di un gradino. Perfezioniamo le misure su questa tendina, quindi il raggio facciamo che sia di 5, l'altezza abbiamo detto 17 cm e qui va tutto bene. Il gradino lo realizziamo con il comando tubo, in questo modo mettiamo giù velocemente a piacere questo tubo, lo perfezioniamo sempre sui parametri, il raggio interno deve coincidere con il raggio esterno del cilindretto, il raggio esterno invece di 50 e l'altezza facciamo che sia di 2 cm. Ora, sfruttando l'opzione taglia, ci inseriamo qui i gradi, l'arco dei gradi del nostro gradino che è di 24, in questo modo abbiamo realizzato questa fetta di tubo che è esattamente il nostro gradino. Lo possiamo tranquillamente ruotare sfruttando questa finestra, lo ruotiamo attorno all'asse delle zeta di 180 gradi. Eccolo qua. Ora, si tratta di posizionare la faccia superiore del gradino, del nostro gradino, con la faccia superiore del cilindretto. Abbiamo visto il comando a linea, è quello che fa per noi, quindi lo selezioniamo, prendiamo l'oggetto di destinazione e qui intanto allineiamo i pivot in tutti gli assi. E qui siamo a posto. Ora si tratta di far coincidere le due facce superiori dei due oggetti. Riprendiamo il comando a linea, sempre il cilindretto, sfruttiamo semplicemente l'asse delle zeta e diciamo che la faccia superiore deve coincidere, anzi, devono coincidere tutte e due, cioè le due facce superiori devono essere allineate. Ecco qui il risultato, ed è quello che volevamo. Diamo OK. A questo punto direi di fare un ulteriore gradino, questo qua lo utilizziamo per creare, per farlo in materiale di legno, quindi cambiamoci anche il colore. Poi direi di fare una copia con Shift, eccola qua, mettiamoci un colore diverso, eccolo, in modo di avere poi la possibilità, quando si assegnano i materiali, di assegnare appunto il materiale ferro nella parte inferiore e invece il materiale legno sulla parte superiore. Ora è fondamentale allineare il pivot di questi oggetti al centro del cilindretto, altrimenti quando cercheremo di realizzare la scala a chioccio avremo dei problemi di allineamento. Selezioniamo gli oggetti, andiamo sul menu Gerarchia e qui prendiamo il pivot, vedete, selezioniamo Allinea su questo cilindro e Pivot con Pivot tutti allineati nei rispettivi assi. In questo modo siamo certi che tutti e tre i pivot sono allineati al centro del cilindretto e diamo OK. Prima di utilizzare il comando Array che replicherà il nostro gradino 18 volte, conviene assegnare i materiali con la finestra Materiali, quindi al legno assegniamo questo, poi abbiamo la parte in ferro e assegniamo anche un palo, eccolo qua. A questo punto, dicevo, selezioniamo il tutto, tiriamo a civile la modalità Pivot, selezioniamo il tutto, ci portiamo su Strumenti, Array e cominciamo a costruire la scala. In questa parte mettiamo l'alzata, ovviamente lungo l'asse delle Z, abbiamo detto 17 cm. La rotazione del gradino In questa parte mettiamo il tutto, è un po' di più, 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 è un po' di più. In questa parte mettiamo il tutto, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più.